Grazie a tutti Sì, non sarà tutta Grecia, ricordiamolo, c'è spazio anche per altre situazioni, anche perché il tema quest'anno sarebbe stato troppo limitativo, effettivamente, perché la Grecia chiaramente ci ha ispirato tantissime cose per ciò che riguarda il classico, per ciò che riguarda l'unica Grecia proprio Qui scusa, vediamo un giovane virgulto che è passato, che non sbaglio, non si sa chi sia Mi ha interrotto No, mi scusi Mestro Per esempio, questa ora abbiamo un contest, un rock contest, un contest che partirà appunto da domani, da dopodomani e questo aprirà le porte anche a un pubblico Ricordiamo dov'è per tutti? È in via del Forte San Pietro, il palco Vangelis Perfetto Lo palco di Mestro Stato, stasera se non puoi... Non si preoccupi, poi... Ma, invece, stasera parlando di Grecia, un grande Sirtake che ha animato questa piazza Sì, davvero, è stata un'esperienza con Giorgia Corbini, che è il chitarrista, è stato chitarrista di Fabrizio De Andredi E poi un accaso, eh? Non un accaso, eh? Esatto Che si è prestato veramente a questo gioco, chiamiamolo così, perché è in città che è anche molto divertimento L'ultima volta, la seconda volta che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto a velocità pazzesca E abbiamo messo la prova, lì, diciamo Però è stato... ha superato la prova Sì E allora, grazie a tutti Salute l'assessore al commercio Salute l'assessore, buonasera Piaciuto lo spettacolo? Cattissimo Moltissimo, bravo a questo maestro, va a dire Certo Certo Se non c'è la telecamera Allora, maestro, grazie a voi, grazie a tutti E noi ci rivediamo prestissimo I maestri quando scendono dal podio non sono più maestri Sono pochi maestri Quindi no, quindi il signor Mario Menecari Il direttore, il presidente, il avvocato Grazie mille, grazie